Federico Pesquini ha presentato la gara 1 playoff che vedrà i suoi ragazzi opposti al Nimbork. Ha prima analizzato la sconfitta di Brescia elogiando la squadra e la condotta di gara. Voglio parlare di Brescia perché ritengo che sia giusto parlare di una partita in cui abbiamo battuto tutti i recchi mondiali negativi della storia dell'Avino. E di conseguenza penso che sia giusto parlare e dirvi quello che penso non pareva rivisto la partita. E avendo la rivista devo dire che sul 42-27 c'era tutto lo termolare, in attacco non segnavamo mai in qualsiasi modo, da sotto o da fuori, in qualsiasi tipo di sistema offensivo, non ho mai visto una roba del genere. E siamo riusciti ad arrivare a un possesso da loro attaccandoci a una difesa incredibile che mi fa capire che i ragazzi non morano mai. E di conseguenza, chiaro che se l'avessimo girata, se l'avessimo fatto quel canestro per andare avanti, parleremo di una storia diversa. Però mi devo portare dietro il fatto che molto probabilmente una squadra che non è una squadra con la S maiuscola, lì ne prende 30, viene a casa e ha tutte le giustificazioni del caso date dalla striscia degli ultimi due mesi e sarà l'unico che manca. In vista del confronto in Champions League ha sottolineato il fatto che è importante valutare l'ottica delle due gare. Pensiamo al Nimbun, per la prima volta giochiamo una partita dentro fuori, per la prima volta giochiamo una partita che non è di 40 minuti ma di 80 minuti, per cui l'errore più grande che si può fare in questi casi è passarsi la prima partita, quella che giochi in casa, a guardare il tabellone. Chi guarda il tabellone domani sera molto probabilmente alla fine di 80 minuti l'ha perso. Perché? Perché quando giochi una partita di 80 minuti e al primo tempo lo giochi in casa tua, quello che conta è che nel primo tempo che tu giochi in casa tua devi essere più sveglio dell'avversario e dar peso al pallone. E questo è esattamente quello di noi giocatori. Se noi pensiamo che si debba ogni quarto avere un margine, sicuramente a fine del primo tempo saremo sotto. Io penso che domani sera dobbiamo essere bravi a capire che giochiamo contro una squadra che è assolutamente concentrata sul discorso della Champions League perché in campionato vince mediamente di 40-50 punti come è capitato l'altro giorno. Sono arrivati due giorni prima per cui la preparano come chiaramente la loro priorità stagionale. Sappiamo che in casa hanno sempre vinto. Tutte queste cose devono farci pensare che su di 80 minuti dovranno essere bravi partendo da domani sera a sfruttare ogni occasione che si crea senza alzare gli occhi al tabellone e dire siamo a più 4, siamo a più 6, siamo a meno 6, siamo a meno 8. Chi fa questo esce. Palla 2 domani sera alle 20.30 per una partita che rappresenta e lascia passare per i sedicesimi della competizione.